Una lite furibonda tra due pakistani e un indiano, scoppiata l'altra sera alle 23 a Lavinio, è terminata con l'arresto di un quarantenne con le accuse di tentato omicidi e lesioni. L'uomo ha staccato con un morso la prima falange di un dito della mano destra a un connazionale, l'ha ingoiata, quindi completamente fuori di senno, ha accoltellato alle spalle un cittadino indiano di 47 anni, ferendolo gravemente. Per cause ancora da accertare è scattata una lite fra i tre, in un primo momento sono volati pugni e schiaffi, poi la situazione è degenerata. Lasciate in terra le due vittime, l'aggressore è fuggito a piedi, alcuni testimoni della lite hanno lanciato l'allarme al 112 e in pochi minuti gli agenti di una volante del commissariato di Anzio sono intervenuti su via della Valle Schioia, dove hanno subito soccorsi i feriti. In particolare sono apparse gravi le condizioni del cittadino indiano colpito dalle coltellate alla schiena. L'uomo è stato trasferito in ambulanza agli ospedali riuniti di Anzio, dove è stato ricoverato in prognosi riservata, non è comunque in pericolo di vita. Al pronto soccorso, dove è stato medicato e giudicato guaribile in 30 giorni, l'altro straniero ferito ha raccontato ai medici che la falange del dito gli era stata strappata con un morso dall'aggressore, che poi l'aveva mangiata.